In questo video vi farò vedere come bloccare un sito con Google Chrome Inizio col dirvi che ci sono altri metodi più efficaci come quello di agire sul file host Di installare un programma parente al control, di agire sull'antivirus Però io oggi vi faccio vedere un metodo veloce Utilizzando solamente Google Chrome che magari può essere aggirato Utilizzando semplicemente il browser Google Chrome senza scaricare programmi e molto velocemente Quindi vediamo come fare Andiamo su puntini in alto a destra, impostazioni, mostra impostazioni avanzate, privacy, impostazioni contenuti Dopo cosa facciamo? Andiamo a gestire immagini, gestire escezioni e mettiamo il sito che vogliamo bloccare Quindi in questo caso metto YouTube E metto blocca Faccio fine E poi vado anche ad agire sul JavaScript Quindi rinserisco sempre YouTube Metto sempre blocchia E faccio fine Ora se io vado su YouTube Non dovrebbe funzionare Come vedete infatti il sito Mi fa accedere al sito Però non vedo immagini Se accedo a un video non mi parte il video Quindi ho disabilitato le funzionalità di questo sito E è come sostanzialmente averlo bloccato Come vi ho detto esistono anche altri metodi Magari più efficaci di questo Un po' più elaborati Poi se avrò richieste di video su questo tema Magari ne farò altri su come bloccare più efficacemente siti internet Quindi per questo video è tutto Intanto e alla prossima Grazie a tutti